Come si stabilisce il prezzo giusto? C'era una trasmissione qualche decennio fa che ha fatto fortuna con questo titolo, che il prezzo è giusto. Siamo qui per un nuovo appuntamento del podcast di Rubino Immobiliare News, io sono Gennaro Delcore e con me c'è Andrea Rubino. Benvenuto. Bentrovati. Allora, è l'elemento più difficile quando si decide di vendere casa, perché le voci si susseguono, soprattutto se si fa da privato, magari ci si approccia con un'attenzione non proprio professionale e il rischio è quello di sbagliare il prezzo, sbagliare il valore di mercato e aspettare per mesi se non anni con l'appartamento vuoto e le tasse da pagare. Da che cosa cominciamo? Per una panoramica un po' generale, ecco, io stamattina ho aperto uno dei sistemi migliori per comprare casa, quindi per scegliere la propria casa, che è andare sui portali immobiliari, che sono grandi contenitori, diciamo su internet o immobiliare.it o casa.it, ecco, ci sono vari portali, quindi per poter scegliere. Allora, ho notato che a Bari ci sono ben 2807 appartamenti in vendita, immobili in vendita, sono 2800. 2800 tutti si possono vedere in buona parte con foto, anche con video, quindi è chiaro che questo significa che l'acquirente, grazie anche a questo mezzo, trova un mercato trasparente, cioè può farsi sicuramente lui l'idea di quel che può valere un immobile. Grazie a questi software, peraltro, può già individuare la via, la sua via di riferimento e scoprire già quant'è il valore di mercato, quindi senza andare dietro al pettegolezzo della signora di fronte che ha venduto di più, di meno. Sì, questo è chiaro che è un input che io desidero dare ai proprietari, perché oggi il mercato rispetto a 20 anni fa o 25 anni fa è molto evoluto, c'è molta trasparenza, quindi non è che si trova il cliente che è sproveduto, che si fa prendere dall'entusiasmo e quindi compra a qualsiasi prezzo. Quindi questo che cosa comporta se si vuole vendere realmente la propria casa? Comporta che bisogna fare o far fare, anzi bisogna far fare una valutazione giusta a persone competenti che conoscono il mercato a mena dito, perché la valutazione è molto importante per far sì che poi dopo uno ricavi il prezzo giusto dell'immobile. Qual è il pericolo? Il pericolo è di sopravvalutare la propria casa e quindi che succede? che esce fuori mercato, non viene vista, cade nel dimenticatoio e quindi è un pericolo. Certo, reale di perdita di tempo. Perché dopo perde tempo, ma perde proprio a pelle l'immobile. Anche perché un potenziale acquirente potrebbe chiedersi perché la casa è invenduta da due anni. E ci sono anche queste situazioni, perché dopo si va un po' sul psicologico, e quindi il cliente può dire ma perché non si vende, oppure i ribassi, perché dopo non si trova anche ribassi, ribassato, prezzo ribassato e quindi diciamo si va a perdere il valore dell'immobile. Quindi ecco quello che io dico da molto tempo e comunque da diversi anni diciamo come rubino e come rubino immobiliare che è presente sul mercato, siamo presenti sul mercato da oltre 40 anni, stiamo entrando nel 42esimo anno di vita della rubino immobiliare e dico bisogna stare attenti, molto attenti alla valutazione. Ora l'interesse di un agente immobiliare, di un'agenzia immobiliare non è quello di sottovalutare l'immobile ma neanche di sopravvalutarlo perché è un po' come il medico che va a fare la diagnosi e ora la diagnosi è una cosa importante, sbaglia la diagnosi, sbaglia la terapia e il malato si aggrava oppure muore. Ora la stessa cosa avviene per il prodotto casa perché se io come valutatore sbaglio e faccio una valutazione sballata o l'immobile non viene venduto oppure bisogna attendere molto tempo e dopo la fine uno è costretto a ripassare. Io quello che dico, dico i proprietari, non bisogna mai attendere di avere necessità di vendere perché se si ha necessità di vendere, dopo di che effettivamente la casa si svende. E questa è una legge di mercato. Grazie Andrea per essere stato con noi, alla prossima.